Si è aperto con l'abbraccio di Alghero il Giro d'Italia numero 100. I primi 206 chilometri con arrivo Olbia hanno seguito lo schema prevedibile fino a poche centinaia di metri dalla fine. Ma andiamo con ordine. Subito dopo il via prende in largo la fuga del giorno composta dal trentino della Bora Ansgrohe Cesare Benedetti, dal russo della Gazprom Pavel Brutt, dall'eritreo della Dimension data Daniel Teclea in mano dall'albanese della Villier Euger Zupa e dalla polacco della CCC Marcin Bialoblocki. Vantaggio massimo 7 minuti e 5 secondi nella parte iniziale della tappa. Poi le squadre dei velocisti entrano in azione e il vantaggio cala. Molto attiva la Orica Scott di Caleb Yuan, il talentuoso e brevilineo sprinter australiano in un giro cui partecipano anche Graip, il Gaviria, Nizzolo, Modolo, Maresco, Oflan tra le ruote veloci. Dicevamo che lo schema prevedibile della tappa con la fuga di giornata viene rispettato fino a poche centinaia di metri dal traguardo. I fugitivi vengono tutti riassorbiti. Poi il 25enne austriaco Lukasz Postelberger tenta la solo da finissore. Favorito dal finale tortuoso riesce a fare il vuoto nell'ultimo chilometro. Il gruppo reagisce tardivamente e Postelberger apre il giro cento con una delle sorprese più clamorose della storia della Corsa Rosa. Sul traguardo Caleb Yuan brucia Graipel, Nizzolo e Modolo ma è una volata che vale solo il secondo posto. Postelberger che si era rivelato vincendo una tappa al Tour dell'Avenir qualche anno fa, è il primo austriaco a vincere una tappa al giro e il primo in maglia rosa.